Partiamo dalla gioia per il tuo primo gol, avevi cercato una conclusione simile qualche minuto prima, avevi preso un po' le misure? Sì, allora sono contento perché da un po' di partite volevo trovare il gol, poi sono anche contento perché è il mio primo gol in questo campionato, visto che vengo da una primavera, non avevo mai fatto questo tipo di campionato prima, come dici te, prima avevo provato a girarmi, solo che avevo sbagliato completamente il tiro, poi ci ho riprovato la seconda volta, è andata meglio. Una partita che si era messa con il tuo gol, è quello di Rosa, sui binari giusti, poi hanno cominciato con un gioco diverso questo secondo tempo e ci ha messo un po' in difficoltà. Sì, siamo andati un po' in difficoltà nel secondo tempo, abbiamo fatto un ottimo primo tempo, infatti non ricordo parate di Cizza, mentre nel secondo tempo ci siamo schiacciati un po' di più, loro hanno preso coraggio, hanno trovato i gol nei primi minuti e da lì e hanno preso coraggio, sono andati avanti tutto e purtroppo è arrivato il secondo gol. Adesso bisogna subito resettare, imparare da quello che è successo oggi e si riparte perché mercoledì c'è già una partita. Sì, allora mercoledì abbiamo una trasferta, abbiamo una partita del giro d'andata, resettiamo come hai detto te questa partita e siamo pronti a dar tutto mercoledì per chiudere in bellezza. Grazie a tutti.